Grazie Presidente, intanto permettetemi di ringraziare il Sindaco, l'amministrazione comunale, il Consiglio comunale di Melfi, tutto e voi che siete ancora qui oggi. Perché questo Consiglio è ciò che serve alla comunità per poter esprimere anche la propria opinione rispetto a come viene gestita la cosa pubblica, in questo caso la sanità. Ringrazio il Dottor Spera e il Dottor Maraldo che adesso non vedo ma che sono arrivati a Melfi per poter confrontarsi con noi. Permettetemi al di là di tutti i discorsi che sono stati fatti fino adesso di concentrarmi esplicitamente e specificatamente su Melfi e su Vulture Melfese, perché sono a mio parere da considerare come un'unica area di circa 100.000 abitanti, la terza area più grande della Regione. Noi dobbiamo concentrarci e pensare che siamo un quartiere di questa Regione, una cosa unica e quindi benvenga la presenza prima di tutti i sindaci della zona, di quasi tutti i sindaci della zona, che hanno rappresentato ovviamente la necessità di attenzionare l'ospedale di Melfi, direttore, perché tutti i sindaci sono coscienti che l'ospedale di Melfi in quanto PSA, il CROB di Rioniero per quello che può svolgere il CROB, l'ospedale di Venosa per quello che può svolgere l'ospedale di Venosa, sono strutture fondamentali per l'area del Vulture Melfese. Quindi ringrazio anche i sindaci che erano qui prima presenti. Accolgo con favore quei dati che lei ha esposto prima, i dati che vedono il nostro ospedale è un ospedale in crescita. Mi fa molto piacere questo. Qualcosa già sapevo perché ci sono in questi mesi incontri all'interno dell'ospedale, ho avuto piacere di parlare con molte persone del comparto sanitario e avevo notato, mi era stato raccontato, che c'era un miglioramento nell'attività. Mi permetta di esprimere la mia personale opinione che questo aumento è soprattutto da annoverare al merito del personale, che con responsabilità e con professionalità portano avanti quella struttura anche lì dove ci sono delle criticità, anche lì dove, come abbiamo visto e come abbiamo sentito quando sono intervenute le sigle sindacali, ci sono delle mancanze del personale. Mi permetta poi di incidere sul termine responsabilità. Perché? Perché tutti noi, la politica, noi Roberto, dobbiamo essere responsabili, la stampa deve dare una certa responsabilità perché gridare al lupo al lupo, allarmare la popolazione su un rischio che magari non è reale, ma che ci permette di fare campagna elettorale a mio parere è assolutamente sbagliato. Ti ringrazio, vedo che tu annuisci, quindi sei d'accordo. È assolutamente sbagliato perché si rischia soltanto di fare un danno alle strutture del nostro territorio dichiarando che un certo reparto può essere in crisi, può chiudere da un momento all'altro poi magari non è vero, ma dichiararlo perché così si riesce a fare il post su Facebook con 150 like è assolutamente un danno che noi facciamo alla nostra sanità. Non è un pregio che facciamo a noi, ma è un danno che facciamo ai cittadini. Quindi i cittadini dovrebbero essere anche coscienti da questo punto di vista. È stato ribadito più volte da sigle sindacali, in parte l'ha detto anche lei direttore, abbiamo una cronica carenza di personale. Di questi giorni, mi pare lo abbia detto anche lei prima, ci saranno un po' di assunzioni soprattutto nel settore infermieristico. Mi permetto di spezzare una lancia a favore di tutti quegli operatori del settore sanitario che sono stati d'aiuto alla nostra regione durante il periodo Covid e che ora si trovano nelle graduatorie. Noi dobbiamo ricordarci di queste persone che come è stato detto prima dal collega Pitella erano con le mute in un ospedale e ci permettevano di portare avanti il servizio sanitario nel pieno del Covid. Oggi dobbiamo tenerle a mente, non possiamo permetterci di dimenticarle direttore. Tutto ciò che è possibile fare per andare incontro a una stabilizzazione anche nel tempo di queste figure a mio parere va fatto. Io capisco che non si tratta di una cosa che si può fare semplicemente a livello tecnico ma che è una cosa che deve fare la politica, Assessore Fadelli. Andare incontro alla ricerca di stabilizzazione da parte di tutti i precari del settore sanitario. Noi lo possiamo chiedere sicuramente ai nostri direttori qui presenti ma è una cosa che deve fare soprattutto la politica. Quindi questa è una richiesta che io pongo a lei guardare alla possibilità e a trovare i mezzi soprattutto quelli economici ovviamente per riuscire a raggiungere la stabilizzazione dei precari. Cerco di essere velocissimo Presidente. Quello che emerge anche oggi è la necessità della pubblicazione, della redazione dei fabbisogni della sanità lucana. Abbiamo bisogno di sapere di cosa abbiamo bisogno soprattutto, di cosa già eroghiamo e di cosa dobbiamo erogare i nostri cittadini. Da questo punto di vista si può andare anche incontro a ciò che viene chiesto dalla sanità privata e accreditata che è da considerare come è già stato detto stasera parte della sanità pubblica perché comunque sia svolgono quella parte del servizio sanitario che non viene svolto dalla nostra sanità pubblica, dai nostri ospedali, che non può essere svolto a volte dai nostri ospedali. Quindi benvenga anche cercare di andare incontro alle loro richieste. È ovvio che noi dobbiamo farlo con coscienza, non gettando soldi dalla sera alla mattina, come diceva l'amico Ernesto, gettando soldi la sera alla mattina nel comparto, ma puntando a quello che veramente abbiamo bisogno. Quindi ritorno alla necessità dei fabbisogni, assessore. Qui ci voleva magari anche il nuovo direttore generale del dipartimento perché è lì che si è fermata la questione. Era stata annunciata la pubblicazione dei fabbisogni, poi è successo quel che è successo e la pubblicazione è saltata. Concludo, Presidente, dicendo che per quello che mi riguarda io non temo la chiusura del nostro ospedale, non temo la chiusura dei reparti dell'ospedale di Melfi e onestamente non credo neanche nella riduzione, nel ridimensionamento della struttura di Melfi o del CROB. Non ho queste paure, mi permetto di dirlo ai cittadini di non averne. Quello che noi dobbiamo fare però è tenere alta la guardia, attenzionare ciò che succede, fare in modo da riportare a chi di competenze, in questo caso l'assessore e i direttori, riportare laddove ci sono le criticità e andarle a affrontare rapidamente. Io sono contento, direttore, che lei abbia detto che laddove c'è la mancanza di un ginecologo in ginecologia, che sia a Melfi, che sia a Villadagri, che sia a Lago Negro, che sia anche al San Carlo, si può soperire con il personale di un'altra struttura, lo stesso per la radiologia, ma questo bisogna farlo con grande attenzione, con grande metodo, perché probabilmente la struttura, l'azienda sanitaria San Carlo è in grado di gestire con tranquillità anche le emergenze. Basta non limitarsi, non vincolarsi e soprattutto non fare una questione di quartiere, di campanile tra il San Carlo a Potenza e San Giovanni di Melfi e le altre strutture che ci sono nella regione. Grazie. Grazie.